Ciao a tutti ragazzi da 100% Cicero e benvenuti in questo nuovo video la prima gara del nuovo campionato di Serie B è andata in archivio il Frosinone ha battuto il Modena in trasferta grazie alla rete di Rodien e permettetemi di dirlo sono contento che abbia segnato Marcus perché è un professionista e anche il fatto che la società gli abbia rinnovato il contratto per le sue qualità umane prima di tutto secondo me dice tanto di Marcus e sono convinto che questa stagione sarà la sua stagione di riscatto perché se lo merita ampiamente e spero che ci aiuti e che trascini i più giovani in questo campionato piccola premessa ho ascoltato la partita in quanto è aver intenzionato ad attivare Elbiz con lo sconto riservato agli abbonati del Frosinone per le partite in trasferta vado lì per inserire il codice e il codice risulta essere errato contatto a Elbiz viene fuori che questo codice non è più utilizzabile anche se non c'era alcuna data di scadenza e poi tra l'altro sono andato a vedere sui social e anche parecchi altri tifosi di altre squadre hanno avuto lo stesso problema però Elbiz si è ben vista da dirlo insomma anticipatamente quindi parecchi si sono ritrovati nella mia situazione ho dovuto fare in maniera alternativa quindi ho ripiegato sulla radio che però andava a tratti alcuni punti sono riuscito a sentirli bene altri meno però quello che posso dire un Frosinone che si rinnova nuovamente ma un Frosinone che continua con il suo gioco quello dello scorso anno un gioco dato da grosso che ha dato una nuova mentalità a questa squadra ma che ha trovato nuovi interpreti tra cui Caso che come nella partita di Coppa Italia ha fatto il suo Oiono che ha migliorato il suo approccio forse alla gara in questa settimana e anche Turati che se puoi ancora prima partita di campionato e Coppa Italia sta comunque piano piano prendendo le retini della squadra lì dietro poi Lucioni una sicurezza così come Kotali e centrocampo Daniel Bologa che quest'anno avrà la sua consagrazione nota su in attacco mancava Moro perché a quanto pare con il Catania era squalificato nel passato campionato di Serie C però poi il Catania è fallito e quindi per non rischiare qualcosa in società si è preferito non convocarlo più perché altrimenti si poteva rischiare magari in qualche penalità adesso posso ha giocato Murattieri un Frosinone in che va a Modena per per giocare come sta facendo ormai dallo scorso anno con nuovi interpreti dicevo c'è anche Kone un giocatore come Kone che mancava la scorsa stagione un giocatore di fisicità e di ruenza come Kone è mancato un giocatore la cizza e secondo me quando sarà a disposizione anche Kujabi per via della cittadinanza avremo anche un altro gioiellino da poter schierare in campo Frosinone che trova il suo gol poi l'ho visto dagli highlights sentito alla radio cross di Garritano sbuga Rodien dall'esterno anticipa il portiere Gagno del Modena controlla benissimo il pallone e poi ha tutta la porta vuota e va a segno Rodien ripeto sarà ripetitivo ma secondo me io mi auguro tanto che Rodien abbia la sua stagione di riscatto se la merita tutta un Frosinone ecco che secondo me si potrà divertire quest'anno e ci farà divertire ovviamente probabilmente troveremo momenti di vuoto per carità nell'arco del campionato ci sta e poi con una squadra così giovane però ci possiamo togliere le soddisfazioni quest'anno come ce le potremmo togliere l'anno scorso però l'anno scorso è andato abbiamo peccato in qualche situazione siamo ancora molto giovani però possiamo dire la nostra noi dobbiamo fare il nostro tranquillo campionato e poi magari fare lo sgambetto a qualcuno la prossima in casa col Brescia una sfida importante perché comunque il Brescia è un avversario di tutto rispetto che punta a stare lì in alto staremo a vedere che tipo di prestazione ne verrà fuori ma spero e credo che ci divertiremo molto per questo video è tutto invita a scrivere al canale e mettere mi piace e noi ci vediamo la prossima settimana dopo Frosinone e Brescia ciao a tutti